Sono centinaia, arrivano da tutte le province del Veneto e anche dal Friuli Venezia Giulia per protestare contro quello che la nostra regione, prima in Italia, sta per attuare. Un taglio senza pari alle risorse destinate alle associazioni dei non vedenti e dei non udenti che potrebbe mettere a repentaglio l'offerta di servizi essenziali per persone disabili e l'esistenza stessa di alcune sedi. L'Unione regionale ha circa 3.200 soci, però noi per legge dobbiamo prestare la nostra assistenza a tutti i non vedenti quindi si parla di circa 8.500 ciechi o ipovedenti gravi e almeno 20.000 di ipovedenti lievi e noi dobbiamo seguire tutti quanti. L'Unione ciechi di ipovedenti e l'ENS, l'ente nazionale sordi, offrono ad associati e non assistenze e consulenze in materia fiscale, amministrativa, legislativa e previdenziale ma non solo, erogano anche una serie di servizi a integrazione e spesso in supplenza dell'azione degli enti pubblici avvalendosi delle esperienze e delle competenze maturate in decenni di attività. Se questi enti dovessero ridurre i servizi, chi potrebbe svolgere adeguatamente compiti così delicati e fondamentali? Noi chiediamo solamente giustizia, prima della decisione la regione Veneto era sempre stata molto sensibile e molto elastica rispetto ai nostri problemi, però di punto in bianco c'è stato questo taglio io non ho ancora capito come mai sia successo questo, siamo qui per protestare contro questa decisione e vogliamo chiedere tutti assieme alla Commissione regionale, siamo in molti oggi e vogliamo far valere i nostri diritti, siamo cittadini italiani anche noi e per favore chiediamo degli aiuti per andare tutti assieme a protestare in modo forte alla regione vi ringrazio per l'attenzione Intanto i manifestanti sfilano in corteo direzione Palazzo Balbi per incontrare l'assessore alle politiche sociali Remo Sernagiotto Grazie a tutti